è scattato subito qualcosa capisci sono innamorato di emma da 399 giorni questa cosa è un po inquietante in tempo era molto innamorato di lei da quanto non la senti più? ci vediamo da un anno e subito ti coinvolgo con tutti i miei casini non abbiamo mai fatto sesso tu e Luigi non avete mai fatto sesso io e luna dobbiamo capire se c'è intesa anche sotto quell'aspetto se io riuscissi a scoprire chi è e a intervistarlo lei mi assumerebbe? e dire che non vuoi liberare la tua vera identità no alle secche sono solo scocciaduno non fare il finto tonto io so chi sei ma tu ti riferisci forse alla mia attività di scrittore? ho un fratello sono non un fratello Mario mi devo un grande favore che è successo? vedo si sia bloccato ma è grave? non può mai essere che la mia nazzocca magari la sua ma come si permette? scusi? dicevo così per essere socievole hai detto che era più alto no è che quando ci siamo conosciuti ero su un gradino e così dove siete conosciuti? a Napoli a Napoli o a Roma? la mia ragazza ha affittato questo appartamento per i prossimi tre giorni io ho affittato questo appartamento per tre giorni ma non sento ci sono delle interferenze ci ha tirato un bidone posso chiederti chi sei tu? come? sono Ubaldo ho affittato l'appartamento fino a domani ho affittato l'appartamento per i prossimi tre giorni ho affittato l'appartamento per i prossimi tre giorni qua è brutto ho affittato l'appartamento per i prossimi tre giorni ho affittato l'appartamento per i prossimi tre giorni